Un sogno è un governo dei migliori a prescindere dal colore politico, giusto? Lei se le chiedessero una mano in questo governo dei migliori andrebbe? No, io non sono un politico. Ha mai pensato di fare politica? No, me l'hanno chiesto in passato, me l'hanno chiesto anche abbastanza recente di impegnarmi in qualche maniera, comunque di metterci la faccia, ma non l'ho fatto prima di tutto perché adesso ricopro una carica istituzionale e non credo che sia giusto che al limite uno allena una squadra e può anche farlo, per esempio i giocatori del Mila o l'allenatore del Mila, se Berlusconi richiedesse di partecipare credo che lo farebbe, ma io ho ritenuto opportuno non farlo perché l'allenatore della Nazionale non credo che si debba. E un domani mai dire mai? Mai dire mai va bene, però io credo che... Sì o no? Mai dire mai? Mai dire mai però io direi di no, perché le spiego perché, perché oggi viviamo nell'era della specializzazione, oggi non esiste più il tuttologo, oggi si è specializzato in un qualche cosa, grande capacità, grande specializzazione. Io ho passato 40 anni nel calcio, non mi ci vedrei a fare la politica. Senta, per Viareggio invece se dicessero di fare il sindaco? No, no, per carità, no. Tanto lo è già il sindaco di Viareggio, sindaco Ombra, quindi non c'è... Senta, avrebbe votato Obama in America, è vero? Avrebbe votato Obama. È vera sta cosa? Sì, sì, è vero, è vero. Perché le piace? Mi piace perché mi entusiasma, io sono contrario a qualsiasi tipo di razzismo, di pelle, di cultura, di qualsiasi tipo, e perciò mi ha entusiasmato e mi ha anche emozionato vedere quella sera a Chicago salire sul palco Obama con la famiglia è la grande speranza che c'è nei confronti di questo uomo, mi ha entusiasmato. Potrà fare, forse, speriamo tutti, qualcosa anche per un... appunto lei è l'uomo del dialogo, del comunicare, qualcosa anche con le zone più critiche, il mondo arobo, per esempio lui ha detto voglio andare al Cairo, ottenere un discorso, cioè può aprire un dialogo, colmena non è stato fatto. Io credo di sì, credo che parta da una base che è nettamente diversa da quella precedente. Precedente. Come ha vissuto le guerre che sono state fatte in Afghanistan, in Iraq? Come le ha vissute lei? Le ho vissute con la perplessità, per quello che è la mia competenza, del fatto che fossero utili o meno. E' chiaro che sull'onda emotiva di quello che è successo l'11 settembre nessuno può criticare Bush se fa quello che ha fatto con questa sensazione di grandissimo orgoglio per difendere il proprio paese, la propria nazione. Poi dopo col tempo va a vedere perché Saddam Hussein alla fine era forse l'unico che combatteva tutto quello che gli stava accadendo intorno. In che senso? Nel senso che era forse il primo nemico di quelli che se ne sono andati laggiù a buttare giù le torri. Ah sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio, ma molti lo pensano, comunque l'Iraq di Saddam Hussein, premesso che è un dittatore, nessuno di noi due lo nega, però alla fine arginava, sono d'accordo con lei, sempre sulla questione politica. Io ho letto varie sue interviste, sono andate indietro nel tempo, non la voglio inchiodare a quello che ha detto perché poi si cambia opinione nella vita. Però una cosa lei l'ha sempre ribadita, io quello che rispetto, diciamo così, della politica è il pensiero, la liberalità, i valori positivi che c'erano nel socialismo, non nel socialismo come partito, ma come termine. Esatto, allora intanto si conferma. Confermo al 100%. E poi se vuole spiegarci un po' meglio questo concetto. No, beh, sono cresciuto all'ombra, diciamo, di questi concetti, di questo modo di pensare, mio padre e tutte le persone che frequentavo. mi ricordo che mio padre odiava il potere, no? In quel periodo lì, gli agnelli, non li poteva vedere lui, no? Tant'è vero che ho raccontato questo episodio, che poi quando sono andato alla Juventus, mio padre è morto nel 91, nel 94 quando sono andato alla Juventus, sono andato al cimitero, e gli ho detto, guarda, io vado alla Juventus, mi dispiace, bisogna che tu accetti questa cosa. Perché lui odiava, c'era un po' questo concetto, no? nei confronti del potere, in quel periodo era rappresentato. Beh, anch'io odiavo gli agnelli, poi sono andato a lavorare per gli agnelli, anzi lavoro per gli agnelli, quindi vabbè. Esatto, ogni volta perciò, diciamo, che sono cresciuto un po' con queste idee, e poi semplicemente quando io dico a qualcuno, perché socialismo, vai, apri il dizionario della lingua italiana, vai alla parola socialismo e leggi quello che dice di essere socialista. Quindi valori, solidarietà, attenzioni alle classi più deboli, rispetto della parità tra uomo e donna, diciamo. Oggi però la sinistra, sembra un po', premesso che lei è a partiti, che non è iscritta a nessun partito, quindi facciamo un discorso culturale, non di partiti. La sinistra oggi è in crisi perché ha queste lotte intestine che la stanno dilaneando, non ha superato lo shock della sconfitta elettorale, che secondo me invece, come abbiamo visto in Inghilterra, la sconfitta del Labur negli anni Ottanta portò poi a Tony Blair. Le sconfitte possono anche essere costruttive. Detto questo, la sinistra non ha superato lo shock. È dilaneata da conflitti interni e non mi sembra molto occupata a trasmettere questi valori che pure sono rimasti importanti, non sono passati di moda. Condivide o no questa amministra? Condivido, senza approfondire perché non sono in grado di approfondire e soprattutto non sono in grado di capire di questa disgregazione della sinistra. Dei motivi? Sì, dei motivi. Della disgregazione. Della disgregazione. Posso immaginare che l'iniziativa di Veltroni, di fare da solo, di presentarsi da solo, posso immaginare che possa essere stata questa. Comunque sì, è stato un punto di partenza. La novità, certo. Quello di Veltroni che porta avanti attraverso… Però io non mi riferivo solo a Veltroni, mi riferivo in generale… No, no, era un discorso per capire i motivi di questa disgregazione. Perché questa sinistra, che pure ha una tradizione nobile, a cui anche lei come tradizione culturale non partitica, si la giudica comunque di valori, insomma. Sì, è una questione di valori. Di valori con i quali siamo cresciuti. Esatto. Perché fa fatica? Fa fatica a… Per esempio, voi dialogate col popolo. Fa fatica perché immagino io, perché nel periodo in cui a guidare il paese ci sono stati rappresentanti della sinistra e c'è stato un inizio di negatività che hanno portato le persone, oltre ai valori politici e alle idee politiche, hanno anche altri problemi. Hanno il problema di mantenere la famiglia, di arrivare in fondo alla fine del mese. Hanno il problema di comprare il cappottino ai bambini e di portare alla scuola, di pagare quella e quell'altra. Quando si trovano senza posti di lavoro, quando si trovano che a metà del mese hanno già finito i soldi, perché non li bastano, quando si trovano che c'è un'inflazione continua, allora provano a vedere se in un'altra maniera si può cercare di migliorare la situazione. Certo, giustissimo. Come dice lei, quelli che sono il modo di vivere in un paese non dipende mai dai cinque anni che hanno preceduto questo momento, dipende da molto di più. È un qualche cosa di più che, ecco perché diventa incomprensibile del perché un periodo guida la sinistra, un periodo governa la destra, un periodo governa la sinistra, poi di nuovo la destra e la situazione più o meno è sempre la stessa. Ma perché queste persone... E continua comunque a farsi la guerra. Esatto. Senta, dal calcio, voi avete la capacità di parlare alle masse attraverso le emozioni che create e l'esempio che date in campo. Ragazzi, lei, eccetera. La sinistra ha difficoltà, lo dico da persona che analizza questi aspetti, di linguaggio popolare, cioè di intercettare il mood popolare, cosa che per esempio Berlusconi non ha perché ha un'antenna sul popolo. Si può criticare Berlusconi finché si vuole, ma ha queste capacità straordinarie di intercettare il senso popolare. Poi alla fine non perde il contatto con la gente, con l'uomo lì. Che consigli dà giocando? Giocando... Come si fa a mantenere... Il consiglio è quello... Cioè per esempio lei va in giro, va per strada, non è che si nega. No, 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 ci mancherebbe altro. Non fa parte del mio carattere. Io credo che questo sia il momento nel quale bisogna cercare di soprire i problemi. Non bisogna cercare di imporre le proprie idee politiche. Non è quello l'importante. L'importante è che i cittadini sentono forte l'impegno e la volontà da parte di chi li governa che si cerca di risolvere i problemi. E questo, indipendentemente da quale colore siano, ecco perché diventa incomprensibile questa mancanza assoluta di dialogo fra chi governa e l'opposizione. Diventa incomprensibile, anzi questa guerra.